Proseguiamo il nostro cammino assieme a Virgilio e Dante nel terzo canto del Purgatorio. Avevamo lasciato i due in un momento di perplessità da parte di Dante perché si era accorto mentre il sole sorgeva ed era Roggio. Roggio ci ricordiamo da Rouge, è un francesismo che a sua volta deriva da Ruben Rosso, Rubber Rosso, che non vedendo l'ombra davanti a sé di Virgilio Dante teme di essere solo. Quindi c'è la temuta separazione tra Dante e Virgilio. Virgilio è in cuore e dice non ti preoccupare, sono con te. A questo punto parla Virgilio e qui si evoca la seconda separazione, il secondo elemento di separazione, quindi in questo canto è la perdita del corpo. Vespero e giacolà dove è sepolto lo corpo dentro al quale io facea ombra. Napoli là e da brindizio è tolto. Ora, se innanzi a me nulla sa ombra, non ti maravigliare più che diceli che l'uno l'altro raggio non ingombra. Quindi, in questo momento, dove si trova Dante e Virgilio, sono nell'emisfero australe dove sorge appunto la montagna del purgatorio e l'alba. Quindi nell'emisfero opposto, ossia in quello boreale, è sera. Quindi vespero e giacolà dove è sepolto il corpo. Qua c'è un altro energia beman dove è sepolto il mio corpo dentro al quale io facevo ombra, mentre io dentro io, anima, ero dentro il corpo, facevo ombra. Napoli là, c'era Napoli e da brindizio è tolto. Qui Virgilio evoca la sua morte. Lui è morto nel 19 a.C. a Brindisi, di ritorno ad un viaggio in Oriente, dove era stato per dare l'ultimo lima al poema delle Neide, se non che si era ammalato e durante il viaggio di ritorno si era aggravato ed era morto proprio a Brindisi. Sappiamo che in punto di morte lui chiese, se non direttamente da Augusto, a chi per lui, di distruggere l'opera perché non era stata rifinita. Tuttavia Augusto, che aveva già avuto in lettura buona parte dell'opera, riconoscendone il valore in dubbio e anche il vantaggio politico, perché ricordiamoci che nell'Eneide viene celebrata la Gens Julia, quindi lo stesso Augusto e la sua famiglia. Qui decide di pubblicarlo, quindi decide di ricopiare il manoscritto e poi da lì è arrivato fino a noi. Qui abbiamo un'immagine della presunta tomba di Virgilio a piedi grotta, sepolcro attribuito secondo la tradizione a Virgilio. Ovviamente non sappiamo dove Virgilio sia stato sepolto, questo qui è il sepolcro della tradizione. Quindi adesso Virgilio chiarisce, ora se davanti a me nessuna parte si adombra, cioè non si forma l'ombra, non ti meravigliare più che del fatto che l'uno e l'altro dei cieli non ingombra il raggio, cioè che il raggio non viene bloccato quando passa da un cielo all'altro. Ci ricordiamo che i cieli sono concepiti da Dante, dalla visione anche tolemaica, geocentrica, come sfere concentriche. Quindi quando un raggio del sole passa da una sfera all'altra, il raggio non viene ostacolato e quindi non riceve ombra, in questo senso, non viene ingombrato. Quindi in questo già si richiama l'aderire, diciamo, ad una fede, ad una fiducia in determinati fenomeni di cui però non si ha esatta spiegazione, come adesso ci dirà Virgilio più avanti. Qui faccio una piccola puntualizzazione. Nel Napoli là e da Brindizio è tolto c'è un riferimento alla lapide, anche questa presunta, che non sappiamo, che sarebbe stata dettata dallo stesso Virgilio. E qui ce l'abbiamo. Mantua me genuit calabri rapuere, che dovrebbe essere rapuerunt, tenet partenope, cecini pasqua, rura, duces. Quindi Mantua mi ha generato, i calabresi, i calabri mi hanno preso, sarebbero i pugliesi in questo senso, mi hanno preso, tenet partenope, mi tiene Napoli, ho cantato i pascoli, e quindi le bucoliche, rura, e quindi le georgiche, i campi, e duces, i condottieri, quindi le neide di Virgilio. Quindi con questa triade si sintetizza l'opera virgiliano. Andiamo avanti. Allora qui fede contro ragione. Qui adesso Virgilio fornisce un'altra precisazione dottrinale importante. A sofferir tonmenti, caldi e geli, simili corpi, la virtù dispone, che come fa, non vuol che a noi si sveli. La virtù, quindi, è uno degli epiteti con cui Virgilio menziona, cioè si rivolge a Dio, Dio non viene mai, si dice mai Dio, non viene mai detto il nome di Dio, ma sempre con la giustizia, la somma potestà, in questo caso la virtù. Quindi la virtù dispone che simili corpi, cioè i corpi delle anime, possono soffrire tormenti nell'inferno. Come fanno a soffrire le anime se non hanno corpo? E quindi i tormenti, per essere i caldi e i geli, qua c'è un'immagine delle pene, diciamo, dell'inferno. Che come fa un corpo a soffrire se è un'anima, cioè se non è un'anima a soffrire se non ha corpo? Vuol che a noi si disveli, non vuole che si sveli a noi, venga spiegato. Matto, quindi proprio dire matto è attacco di terzine, proprio da risalto a questa espressione, è chi spera che la nostra ragione possa trascorre la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Cioè il paradosso maggiore a cui dobbiamo credere per verità di fede è la trinità. Quindi matto è chi spera che la nostra ragione, i nostri strumenti razionali possono trascorrere, quindi percorrere, la strada infinita che, diciamo, arriva, porta alla spiegazione del perché, del come una sostanza tiene, esiste in tre persone. Quindi la via che c'è tra la ragione e la spiegazione della trinità è infinita. Quindi non si arriva mai e quindi la ragione non potrà mai spiegare il segreto della trinità. È matto chi spera di poterlo fare. In questo già c'è una sorta di ammissione di impotenza. Perché abbiamo detto che Virgilio è l'allegoria della ragione. Quindi non potrà mai spiegare la trinità. Non potrà mai spiegare perché le anime soffrano i tormenti dell'inferno. Bisogna accontentarsi. State contenti, umana gente, al Quia, che, se potuta, veste vedere tutto, mestier non era parturir Maria. Umana gente, voi gente umana, accontentatevi del Quia. Quia è un'espressione latina. In latino si chiederebbe Quia si chiederebbe perché. Il perché che è esplicativo, no? Ma anche interrogativo. Perché succede un fatto, eccetera. In qui, però, nel Medioevo, soprattutto nella filosofia scolastica, per Quia si intende al che cosa, al quad, piuttosto che al perché. Quindi state contenti, umana gente, non al perché, perché non c'è la spiegazione, ma al che cosa, cioè al fatto che le cose stiano così. poiché, che sta per poiché, se aveste voi, umana gente, potuto vedere tutto, mestier non era, non c'era bisogno che Maria parturisse, cioè non c'era bisogno della redenzione attraverso l'incarnazione di Cristo. Perché Gesù doveva venire sulla terra a farsi ammazzare, se voi aveste potuto capire tutto, in tal caso, secondo l'idea che chissà non sbaglia, se aveste potuto capire tutto, non avreste, non avreste peccato e quindi non ci sarebbe stato bisogno di andare a far nascere Gesù per la redenzione dei peccati. Un po' complicato, ma il concetto è questo. I saggi che non hanno conosciuto Dio a questo punto fede contro ragione 2.0, perché a questo punto a disiar vedeste e disiar vedeste senza frutto tai che sarebbe lor disio acquietato che eternamente è dato lor per lutto. E vedeste desiderare senza frutto quelli che il cui desiderio sarebbe stato acquietato se avessero potuto diciamo colmare questa cosa con la ragione, che non è cosa che non è, perché ci vuole la fede, eternamente questo desiderare senza frutto viene dato lor per lutto come tormento. Qui c'è riferimento, c'è un'immagine, alle anime del limbo, cioè a quei saggi che non hanno conosciuto appunto, non hanno avuto la rivelazione e quindi sono stati limitati alla ragione e non hanno potuto fare il salto in avanti con la fede. Infatti qua dice io dico, io parlo di Aristotele e di Platone e di molti altri, molti altri chiaramente qui allude anche a se stesso, anche lui viene dal limbo e lì tornerà. E qui chi non ha la fronte e più non disse e rimase turbato. Qui c'è una sorta di, c'è una polisindato. E qui chi non ha la fronte e più non disse e rimase turbato. Ritmo triadico. come qua io dico di Aristotele uno e di Plato due e di morti altri tre. Ritmo triadico. Un tre dentro il tre e qui chi non ha la fronte e non parlo più e rimase turbato. Con questo triplice atteggiamento quindi diciamo appunto accentuato dall'uso della E quindi polisindeto cioè l'uso continuato della congiunzione ci fa capire il turbamento di Virgilio. Virgilio è in crisi appunto perché ammette in questa circostanza che la ragione non è più sufficiente e non salva. Quindi il desiderio che non viene mai soddisfatto è quello di vedere Dio. I dubbi di Virgilio continuano ma una cosa è certa è meglio la Liguria. Cosa ci vuole dire questo? La situazione continua. Noi divenimmo intanto a piede del monte e qui vi trovammo la roccia sierta che in danno vi seria le gambe pronte. Allora dice noi divenimmo noi arrivammo intanto i piedi del monte allude sempre alla montagna del Purgatorio e qui troviamo la roccia così erta cioè così ripida che inutilmente le gambe vi sarebbero pronte ad ascendere a salire. e poi qua c'è un paragone molto simpatico cioè paragona questa roccia così ripida alle scogliere della Liguria dice tra Lerice e Turbi e la Turbi si trova in costa dura vicino a Monte Carlo la più diserta la più rotta ruina è una scala verso quella agevole e aperta verso quella cioè in confronto a questa roccia che avevo davanti nel Purgatorio la più rotta ruina in questo caso è proprio la parete più rotta quindi più scoscesa è una scala agevole e aperta è una scala facile da percorrere verso di quella in confronto a quella cioè quella che avevo davanti qui proprio per darvi un esempio che ho proprio preso la zona di Portovenere sotto al castello qua c'è uno scogliere in provincia di Liguria che vedete quanto è ripida ma i esempi di Liguria abbondano or chissà da qual man la costa cala disse il maestro mio fermando il passo sì che possa salire chi va a San Sala questa è bellissima ma chi lo sa da quale lato mano la mano può essere la mano destra la mano sinistra quindi da quale mano la costa cala quindi di grada disse il maestro mio fermandosi così che si possa salire chi non ha le ali perché considerando quanto è ripida qua bisognerebbe volare e mentre che tenendo il viso basso essa minava del camillamente e io mirava Suso intorno al sasso da man sinistra ma parì un agente vedete qua in questa bellissima raffigurazione di Gustavo Doré d'anime bellissimo questo un agente d'anime che moviano i piedi per noi e non pareva si venian lente notate qua la diere si di venian che spezza il dittongo e allunga il verso e non pareva si venian lente la lentezza che viene accentuata anche dalle nasali non nian lente viene accentuata anche dall'uso della diere leva dissi io maestro gli occhi tuoi ecco di qua chi ne darà consiglio se tu da te medesmo ad ver non puoi quindi mentre era lì in crisi Virgilio che non sapeva che fare teneva il viso basso esaminava la mente del cammino quindi in testa qual era potrebbe essere il percorso più agevole e io mirava Suso intorno al sasso qui c'è una contrapposizione tra il maestro che guarda in basso basso esaminava qui c'è il gioco dell'essere fantastico io mirava Suso Suso in alto intorno al sasso basso esaminava Suso sasso qui la S che troneggia quindi rende più aspro il verso e contrappone l'atteggiamento del discepolo che guarda in alto e del maestro che guarda in basso cercando di capire la soluzione chi dei due vince in questo caso il discepolo perché la soluzione non viene dalla testa ma dal guardare difatti dalla man sinistra quindi dal lato sinistro mi appariva una moltitudine d'anime che muovevano i piedi verso di noi e non sembrava che si muovessero tanto sembravano tanto venivano lente leva dissi io maestro gli occhi tuoi alza gli occhi ecco qui chi ci darà il consiglio di dove andare se tu da te menesmo aver non puoi se tu da te stesso non puoi avere la soluzione ce la daranno loro qui un po' brusco Dante nei confronti del suo maestro ma per dire aspetta non sta lì a terra a guardare i tuoi piedi guarda che se guardi avanti magari loro ci diranno da che parte passare per salire quindi è un momento in cui Dante comincia ad avere una capacità anche decisionale maggiore rispetto a Virgilio e quindi ripeto l'arretramento della guida razionale rispetto a chi si comincia a appoggiare su altri mezzi per percorrere questo processo di ascesa verso il paradiso e cioè quello della fede qui finisce la seconda parte vi invito a cliccare sulla terza parte per sapere come va a finire